Questa è la ruota panoramica che oramai da settimane è possibile vedere a Pescara, ma è una ruota inattiva. Lo è praticamente da quando è stata realizzata e il comune di Pescara non riesce ancora a sbloccare l'attivazione di questa ruota perché i passaggi burocratici e non che andavano fatti non sono stati effettuati. Oggi l'associazione e il gruppo di Pescara mi piace torna a denunciare questo stato delle cose. Sì, siamo sotto il simbolo dell'incapacità amministrativa della giunta che amministra Pescara targata Alessandrini. Tre volte la scia è stata presentata, tre volte rigettata con tante prescrizioni che secondo noi non sono state tutte ottemperate. Manca ancora una certificazione relativa all'impiantistica elettrica. Non so se questa certificazione sia arrivata questa notte perché l'assessore continua a dire che questa mattina il dirigente firmerà la scia che ha la certificazione di inizio di attività. Comunque il fatto è che la ruota è stata montata in barba a tutte le leggi. Non c'è una sola legge, un articolo di legge che è stato rispettato perché prima si presenta la documentazione poi si può iniziare la costruzione. Ma quindi l'assessore mente sapendo di mentire. Un'opera che è stata realizzata, come dicevo, in forma abusiva. Ma tra l'altro c'è una novità. L'Agenzia delle Dogane, per quanto di competenza, avvisa il Comune, quindi il Comune ha avvisato la ditta che ha realizzato questa opera che in data 28-7 l'Agenzia delle Dogane informa che la realizzazione delle opere temporanee dovranno essere integralmente rimosse precedentemente alla fine della stagione estiva 2016. Quindi c'è una delibera che autorizza la ruota a restare qui fino a gennaio 2017. Mi meraviglia come il segretario generale e il direttore generale del Comune di Pescara abbiano potuto approvare un documento simile anche perché sicuramente sono a conoscenza che l'Agenzia delle Dogane impone questi termini. Quindi prima della fine della stagione questa ruota andrà rimossa? Secondo noi dovranno iniziare lo smantellamento il giorno domani perché per smontare una ruota così ci vorranno circa 10-15 giorni. Vista che la stagione estiva termina il 21 di settembre, quindi prima di quella data la zona dovrà essere libera.